Ultimi allenamenti prima dell'esordio di sabato, sera a Grosseto. Primo assaggio di professionismo per il Campobasso, impegnato in Coppa Italia contro la squadra toscana. Domani la rifinitura, sabato mattina tutti sul Pullman, arrivo ad ora di pranzo, riposo e in serata, fischio d'inizio alle 21 il match. C'è grande curiosità nel vedere all'opera la nuova creatura firmata Mirko Cudini, grandi certezze sul modulo, il solito e collaudatissimo 4-3-3, meno sull'11 che andrà in campo, complici defezioni e acciacchi. Sicuro il forfè di Pietro Ladu, operato alla spalla, servirà qualche mese, taglia corto il DS Stefano De Angelis che esclude per il momento il ritorno sul mercato. Valutiamo prima bene i tempi di recupero a Chiosa, stanno bene ma non benissimo, Nacci, sostituto naturale di Ladu, Bontà e Rossetti che in questi giorni si sono allenati a Singhozzo o comunque non con la stessa intensità del resto del gruppo. La sensazione è che Cudini li rischierà, i tre saranno sicuramente a disposizione, indistinta, poi dipenderà dall'allenatore cosa deciderà se utilizzarli o meno. Formazione che verrà fuori dalla rifinitura di domani, una cosa è certa. In campo andrà un 11 battagliero, è deciso a portare a casa la qualificazione. Gara secca al novantesimo in caso di parità supplementare e calci di rigore.